Sarà il più importante appuntamento di marketing territoriale per la Sicilia e quindi anche per la provincia di Caltanissetta che avrà modo di partecipare ad una vetrina mondiale, l'Expo 2015. Questo è l'argomento di discussione della riunione organizzata per i comuni della provincia alla presenza dei dirigenti della regione siciliana che si occupano dell'organizzazione dell'evento. Numerosi sindaci presenti a Palazzo del Carmine che si stanno mettendo in rete. Sindaco, come si sta preparando la città di Caltanissetta all'Expo 2015? Quali saranno le armi che metterà in campo per presentare la città a questo importantissimo evento mondiale? Stiamo lavorando proprio oggi per definire un piano di intervento, per coinvolgere poi le imprese, le attività che insistono nel nostro territorio, soprattutto per cercare di calamitare qui nelle nostre città e i milioni di visitatori che verranno a Milano e che in qualche modo dovremmo riuscire ad attrarre anche qui da noi. Sicuramente è un'occasione importante. Noi, come si sa in giro, penso che su Mazzarino noi abbiamo tanti beni architettonici e quindi tra l'altro la nostra storia inizia dal secendo con il principe Carlo Maria Carafa e abbiamo varie veramente opportunità da far vedere al mondo intero. All'Expo noi porteremo ovviamente le nostre eccellenze nell'ambito agroalimentare, delle avive di agricoltura e anche di materiale artigianale, soprattutto la Cuggeredra, famosa ormai in tutta Italia. Pertanto noi parteciperemo all'Expo che è una vetrina importantissima e funge anche da grande casse di risonanza. Nel nostro paese porteremo l'esperienza di una città che è il più grande produttore di carciofo al mondo. La nostra è il 13% della produzione mondiale, il 33% di quella europea, siamo al 60% di quella nazionale. Ma questa è una parte di quello che noi porteremo. Però bisogna vedere come, perché ancora qualcuno qua non l'ha capito. Io parteciperò in 5-6 padiglioni, sembra assurdo. Questa è la regione Sicilia, quello che sta organizzando. Io parteciperò con Lanci, parteciperò con la provincia di Caltanissette, devo complimentarmi con il sindaco Ruvolo perché sta organizzando. Parteciperò anche con l'assessorato all'agricoltura, parteciperò con il GAL. Scusate, vogliamo fare una cosa unica, l'Expo è in Italia. Noi siamo italiani, vogliamo essere ancora divisi anche in queste relazioni per portare il nostro prodotto. Sarà probabilmente un video a raccontare il territorio nisseno e di paesi che lo compongono, dalle attrattive culturali a quelle enogastronomiche. La regione sarà presente in tre aree, quella mostra e degustazione ed eventi.